Aspetta un minuto, chi sei? Christian Plus Christian Plus oppure puoi chiamarmi come cazzo vuoi Ok ragazzi bentornati a questo nuovissimo video sempre dal vostro nero preferito raga io volevo volevo registrare questo video diciamo un paio di giorni fa poi vabbè ho avuto da fare anzi un giorno fa è uscito ieri volevo registrare ieri ho scaricato il fai ho caricato tutto il vostro nero preferito era occupato però visto che le vostre zii e ciccione mi hanno chiamato dal mio iphone il mio iphone quando squilla rispondo visto che non è neanche l'iphone vabbè ma è squilato lo stesso ho deciso di ascoltare questa canzone anche perchè me l'ha ricordato il mio amico di farlo grazie offline di Nemez Nemezza no Nemezza quindi ho deciso ho detto dai è meglio farlo no? così ce la togliamo dai piedi anche perchè sono curioso di ascoltare anch'io quindi la cosa che devi fare va a seguirmi sul twist che la sto twitchando e ho una mia parola che nemmeno uscire nel vocabaurario nel 2022 se Salvini accetta la mia richiesta e abbassare un po' il volume e niente altro andiamo al video mentre la condividi se non condividi vengo a casa tua e te lo piazzo nel culo andiamo a ascoltarlo ciao ovviamente dobbiamo andare a ascoltarlo perchè non sento oh che mafia io 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 vengo da un metro da cosa mi parli bitch corve corve ragazzi ragazzi stanno più in giro che a casa per questo fan tardi ai 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 cellulare modalità fly Audi T-Max Kaggle Bracash Audi T-Max Kaggle c'è questo drip che mi piace molto però sto ancora aspettando qualcosa di è il pezzo è eccitante però sto comunque aspettando qualcosa di più di più eccitante c'è sto ascoltando qualcosa di più che che mi mandi fuori di testa sto ancora aspettando quella botta lì hai capito il cellulare offline la mia testa è offline il mio video è offline stai giù da me si fezzano per 5 euro non contano i soldi ma per il gesto finisci in come strisci col gesto la vita è troia come la tua donna nella tracorna c'è della droga ma immagina se qualcuno ti beca per strada uno che ti odia ti dice la vita è una troia come la tua donna bam io io berei un po' d'acqua non so voi io ne approfitterei per bere poi se te vuoi a vedere cosa fare si 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 questi non sanno che faccio non pubblico storie entro in un bosco di spazio ero in asparatorie esili manco in definitivo sto con gli squali mica il delfino fuori Milano insieme a Cosino dormo con l'arma sotto il cuscino ma sapete no io devo dire la verità io ho fatto una canzone simile che mi hanno ancora fatto uscire quindi non ho copiato lui a me il ritornero non piace però le bare si se dove essersi veramente il ritornero non mi piace dalla parte di Neyman no anche perchè la canzone è figa ma io non so cantare non so un cazzo di musica e se dovesse decare il culo a lui solo perchè potrebbe vedere il mio video no a me il ritornero non piace è un ritornero generale però wow c'è una cosa che ho sempre detto nelle semplicità nascono le bellezze cazzo mi dovrebbero incolunare re dopo questa parola anzi altro che Dante Alargheri sto cazzo a me non piace il ritornero però le bare è un botto mi piace no cioè a me io ho sempre detto sta canzone se lo ascolto ascolto un po' le cose perchè c'è solo la verità in quello che dice confronto da te bene questa è la verità Audi T-Max Cagol Broccas Audi T-Max Cagol Broccas Offline il cellulare Offline la mia testa Offline Dove ascoltarla magari un po' di volte per dire cazzo ritornero mi piace però forse dovrei ascoltarla di più prima di giudicare però dal primo ascolto non mi piace ritornero ritornero troppo semplice penema tutti questi segni che fanno con le mani che io io non so io di solito quando qualcuno quando una ragazza non mi rispondo su Instagram gli faccio così e basta e andiamo tutti e due in pace la mia testa Offline la mia tipa Offline svegliamo Wi-Fi e niente altro ragazzi niente ci vediamo in un altro video sempre da vostro anzi se è vero dobbiamo parlare della canzone ho già detto tanto il ritornello non mi è gustamoccio il resto ci sta le barre ci stanno però aspettavo una botta sicura aspettavo proprio era un attesa di ascoltare proprio una botta di quelle sapete quelle botte che ti danno e senti che cazzo sta roba spacca veramente stavo aspettando una botta di quelle però con un po' di pazienza c'era dai ci vediamo un altro video saluti buonanotte a tutti buonanotte come se l'originale di notte buonanotte a tutti grazie a tutti